Allora, la motivazione della commissione per la premiazione, vado a leggervela. Il filmato, realizzato con creatività, idromia e buona tecnica, offre interessanti spunti di riflessione sulle tematiche relative alla convivenza civile, proponendo nel contempo i due modelli di comportamento. Nello spot si evidenziano con efficace d'umorismo consueti modi di agire, non sempre improntati alla correttezza e al consenso e attraverso concreti atteggiamenti e semplici commenti, facilmente fruibili anche da un pubblico di giovanissimi, si individuano percorsi di legalità e lealtà da seguire. Quindi veramente apprezzabile. Complimenti. Allora, questo spot va sia il premio officina, come già ha detto il direttore, che il premio giuria. Il premio officina per il maggior numero di condivisioni ottenute su social network, del sito creato positivamente per questo concorso, e sia il premio giuria, quindi avendo rilevato un lavoro veramente di eccellenza fattura. Quello che è la legalità è un argomento molto ampio, ma basterebbe cominciare a cambiare nelle piccole cose, in quei comportamenti che sono alla base del buonsenso, dell'educazione e del rispetto, come buttare la casta per terra, se passare in fila, RISTA! Per rilevare le cose altrui, fare la marmellata con frutta vera, Non truccarsi al semaforo e indossare correttamente il casco e le cinture. Dai, vai, vai! Dai, vai! Che medalha? Non capisco proprio chi telefona o legge il giornale mentre guida. Non lo capisco proprio! Non capisco proprio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.